Ciao ragazzi, qui Deborah Picelli, creatrice del programma Linea Luce e con questo video oggi vi volevo un po' parlare dell'importanza delle decisioni. Spesso e volentieri quello che vedo nella maggior parte delle persone è un continuare a procrastinare, un continuare a rimandare. Quello che dico sempre è alle persone che seguono un coaching cercate di non prendervi la rimandite. La rimandite cos'è? È quel virus letale che ti fa continuamente rimandare, che ti fa continuamente dire lo farò domani, lo farò la prossima settimana, lunedì inizio, tra poco lo faccio e così via. Questo rimandare è un prendersi in giro, è un non prendere mai una posizione, è un perdere il tempo e il tempo è tutto ciò che abbiamo, il qui e ora è tutto ciò che realmente possediamo e il più grande valore che noi abbiamo è proprio il nostro tempo. Rimandando noi lo perdiamo, lo sottovalutiamo, non gli diamo valore e continuiamo a procrastinare delle decisioni. In questo video voglio farvi comprendere quanto è importante decidere, quindi voglio darti un consiglio proprio dal profondo del cuore. Se sei in un dubbio verso qualcosa, se non sai se scegliere di sì o se scegliere di no, se iniziare un qualcosa o non iniziarlo, quando iniziarlo, continui a rimandarlo, se c'è un qualcosa che stai rimandando da giorni, da mesi, da anni, fallo adesso, fallo in questo istante, fallo in questo momento, decidi di farlo oggi e non dire ok, sì, hai ragione Deborah, domani lo faccio. No, non è domani lo faccio, è fallo ora, fallo oggi, perché domani potranno accadere delle cose che te lo impediranno e perché del domani non abbiamo certezza. L'unica cosa di cui noi siamo certi è del nostro qui e ora. Non rimandare una parola, non rimandare un abbraccio, non rimandare un qualcosa che vorresti dire, non rimandare di decidere di entrare in un progetto, non rimandare nel decidere di dedicarti del benessere, non rimandare nulla, decidi di farlo ora, decidi di farlo oggi, perché ricordati che tutto ciò che sceglierai di fare oggi sarà quello che creerà il tuo futuro domani e se oggi sei in una determinata situazione è per le decisioni che hai preso ieri, quindi tutto ciò che oggi deciderai di fare o di non fare sarà quello che creerà la persona che sarai domani. Quindi decidi oggi, prendi le giuste decisioni, non rimandare, liberati da questa malattia della rimandite e agisci, agisci ora. Detto questo ti mando un saluto da questo meraviglioso posto. Per il momento è tutto, lasciami un commento, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ci vediamo al prossimo video. Illumina il mondo. Ciao!